Eeeh siete i cazzi, bravo Simo Spermig Meatball Ahahahah 20 points Cazzo fa? Cazzo fa? Ma questo sta giocando la Switch! Uuuh Brrrr 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 Ok sto a quattro Prado ti hai io sulle spalle Oh ma che codio mare mi ha preso Sono uscito Sono uscito Nooo Cottevella No 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 abbiamo finito il mondo No 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 abbiamo finito il mondo Nooo no no basta 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 Il dito è finito 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 finita la fortuna E' finita la fortuna E' senza monete poi che cazzo fai? Come le monete? No ce lo mette in culo Madoka ce lo mette in culo Ma non c'ha le monete! No! E allora? Come le monete? No! 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 minchia, va sopra e ci ho messo la vita io per far sta stonzata io ci ho messo la vita a far sta stonzata ci ho messo mezz'ora buona io per far sta roba se sono deficiente io sono deficiente mi sparo due cinque questo otto cinque anche se li veda bene così non si vede un cazzo posso alzare tua madre è proprio puttana fatelo dire vabbè sti cazzo che va un attimo sopra vedete qui guardate il counter guardate il counter ho messo il counter degli iscritti live sono molto funny sono molto funny guardate il counter degli iscritti live se uno prova a togliersi si abbassa se uno prova a mettersi si alza minchia ho fatto sta stonzata però vedo che ci stanno molte persone che solitamente lo fanno oggi finiti di farmi il bagno ma ciao lil ciao carissimo come stai oggi mi vedo la partita oggi la faccio reaction in realtà ce l'ho già qui pronta ce l'ho già pronta signore guardate è già pronta uscirà che è della casertana è perché la partita è una merda è così mi sto arrivando a casa minchia la gente è uscita la gente esce di casa ma che veramente va bene va bene guardate me lo sono organizzato bene mi è arrivato un email di temu foggia juve stabia non mi interessa perché cazzo non voglio gli spoiler non voglio gli spoiler ma sono a me c'è diverso youtube in che senso che è successo di diverso cioè prima che inizia la partita del foggia juve stabia qua sopra sta proprio qua sopra prima che inizi la partita foggia juve stabia voglio capire un po' lo mando su discord va bene te lo leggo dai come si vede il ritardo signori c'è un ritardo non lo so c'è tanto ritardo si sente vedete tutto bene non ci stanno problemi perché tanto qua sopra è tutto un'unica roba qua sotto è tutta un'unica cosa si muove soltanto qui se faccio così probabilmente non uscirà niente di pixel infatti non uscirà niente madonna cosa sto vedendo ma cosa sto vedendo ma cosa sto vedendo ma cosa è il feed di short scusate che cazzo è il feed ma il feed funziona in maniera strana ho mandato nel server vediamo ok elati non è ancora venuto chiamate elati chiamate youtube chiamate youtube dove l'hai messo lì dove l'hai messo ok in generale l'hai messo mo ci sta la partita 10 minuti eh lil stiamo praticamente eh si lil praticamente sta roba e perchè sto facendo la live in verticale sto facendo la live in verticale lil oh io sto facendo la live in verticale per tutti c'è la gente se lo vedi in verticale c'è guarda guarda me lo so dovuto ottimizzare un po' però guardate penso di averlo fatto dignitosamente che figata vedete oh tentare non nuocere cioè non fa niente di male così quindi ma non ha quanti ma che cazzo dove l'hai detto what eeeh più live in verticale più live in verticale devo fare la prossima volta devo fare tutte le verticale tutto verticale sto scherzando tutto verticale lo devo fare in mo' il mondo tutto verticale allora cosa si fa mo? se io ho tra dieci minuti ho la partita secondo voi quanto finisce secondo voi quanto finisce la partita nintendo ci sta assai secondo voi quanto finisce la partita foggia juve stabia ma mi sa che lo posso fare il sondaggio eeeh segno per foggia juve stabia ole uno vince il foggia x pareggio madonna cosa sto fai detendo eeeh due vince la juve stabia ole ma voglio veramente fare perché cazzo c'è sta andando io voterei l'uno io ovviamente voterei l'uno onestamente io vorrei votare l'uno eh ve lo dico vorrei votare un botto l'uno vorrei votare l'uno quando che va lento come una lumaca vado lento cioè io vado lento scusami le velocità in cui io vado lento quali sono? le velocità mie lente quali sono? 40 all'ora in città c'è 40 chilometri orari in città cioè nel centro urbano non dì niente a mi zi sì 40 chilometri orari in centro città è poco da quando? ah oladi carissimo come stai? io ho fatto il sondaggio qua cosa mi voti te? minchia io voterei uno di brutto però non lo posso fare ragazzi te ne ti lascia il mio lato in culo forte lento grande ma non mi piace il veloce ma non è lento lì ho 40 chilometri orari nel centro abitato cioè non è che dici 40 chilometri orari su una strada exturbana che vai da una città all'altra nel centro della città a 40 se io con la terza dov'è il problema ah no non è lento è appunto non di c'è è lento ma non stavo unanime in giro e quindi oh 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 sky cinema sta partendo la diretta non stavo unanime in giro eh ma stanno sempre dei limiti stradali stanno sempre dei limiti di strada e si sono sempre dei limiti cioè ci sono più sempre dei limiti esiste più sempre comunque la verticale è figa e ci sono più sempre dei limiti da rispettare e cazzo esistono i limiti da rispettare comunque so che devo svoltare non vada 50 60 all'ora per poi fare la frenata brusca e cazzo minchia non ha senso non ha senso modestamente ma sta iniziando la partita aiuto allora termina il sondaggio non so perché avete messo tutti uno tutti uno avete messo quindi va bene non fare come mio cugino che corre infatti non ci va no no sono proprio tranquillo in città 30 40 all'ora vado io cioè non devo andare velocissimo non ha senso invece se la strada mi finisce dopo un po' che io devo svoltare se devo svoltare non vado a 50 all'ora inizio già a rallentare io rallento prestissimo io rallento molto presto in realtà com'è possibile che iniziate a mola dirette ho già 100 views alla live c'è la mia live più vista di sempre il foggia sono felice il feed ha fatto una parte incredibile mamma mia allora tra 5 minuti 5 minuti 112 views ho fatto già tra 5 minuti inizia la partita diciamolo onestamente tra 5 minuti dovrebbe iniziare io non sentirò l'audio dei commentatori della partita mi vedrò letteralmente la partita appunto io vi dico che solitamente se io solitamente comunque se parlate è meglio se scrivete anche cazzate prima che inizia la partita è meglio perché fa tanto nel feed ve lo dico fa tantissimo nel feed se mi sentite dire ragazzi mi metto un po' a giocare lo faccio spesso io che gioco mentre c'è la partita se io faccio altro a volte a guardare la partita è normalissimo cioè io lo faccio molto spesso a guardare durante la partita e purtroppo sono così non ho l'attenzione fissa 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 guardate la best girl del mondo questa è femmina questa per me è una vera donna va bene sì questa è veramente figlia cioè guarda come fai a dire di no a questo come fai a dire di no a questa è meravigliosa ma tranquillo no che altrimenti mi vedo uno là che dice 891 sì sì grazie grazie sì guardate cosa fanno le live thank you adesso vedendo il vado di peterman bellissimo sperato di vuoi vedere su amazon che pezzo hanno mai europati che cosa vuoi dammi no laddi stavo dicendo che se succede ma fanculo ecco che risulta serie c dovete tornare stavo dicendo laddi se mi vedi che faccio altro invece diventate sotto la partita mamma che bello lo stadio dai amo vincere se vedete che faccio altro il durante è normalissimo è normalissimo poi partita appoggia juve stabia 0 a 0 madonna mia ti prego ti prego vince voglio vincere oggi io voglio veramente vincere io voglio vincerla è importante stanno in tanti campioni oggi il capitano moses dai moses è tutta tua te lo meriti campione campione nostro amore sei ma che cazzo succede c'è la pubblicità di materazzi c'è la pubblicità di materazzi il lo shock che vedo materazzi così di colpo oggi è il mio compleanno mi fai gli auguri daniele clementi auguri non so se sei interessato c'è gente allo stadio mo c'è la pubblicità sono c'è la pubblicità della t-cross quindi non posso dirtelo non te lo posso dire tranquillamente grazie ma di niente stanno facendo vedere il campo quindi manco lo fanno vedere mamma mia stanno inquadrando la cuba sud mi ammazzerai nel video me l'ammazzano ma te la fa questo mi ammazza nel video forse mi ammazza nella diretta mi ammazza nella diretta ma chi se ne frega madonna den batiam il nostro vecchio portiere oddio il nostro ex goalkeeper mamma mia poggia mamma mia sta qui dietro per l'occasione dai faccio te la fortuna daje daje vince mamma mia stanno inquadrando i miei campioni no 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 leva questi leva questi questi qua bianchi levali ai miei campioni rossoneri mamma mia è che sta per iniziare sono in fibrillazione c'è la fibrillazione per me adesso dopo più in fibrillazione la tribuna non la vedo la gradinata sopra c'è un po' di gente sotto non sarà mai nessuno in realtà sotto so che non ci sta qua si è mai nessuno e da dire la vita ciao carissimo simon come stai per battere la juve sabbia quando sta per battere la juve sabbia oddio guarda ti prego per mai sotto la gradinata non c'è mai nessuno perché si vede peggio perché comunque si vede peggio se la di tu l'immagine non lo sappia visuale sopra vedi tutto il campo visuale sotto vedi un po' meno però la visuale di sopra ovviamente vedi di più hai tutto il campo visto che a noi non sono numerati poi è andato cazzo vuoi la gente dove va va al posto più bello e minchia io invece amo stare giù mi piace proprio l'esperienza visiva mamma mia attacca la juve sabbia no 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 oh papazov recupera mosses bella galliano la palla galliano fallo steso non è non è fallo la juve sabbia attacca la fascia di destra no 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 non mi piace per niente questa situazione resta la palla in campo minchia curioso incredibile madonna mia sono in sorpreso esce perina che prende palla e ora c'è la palla silvestre poi c'è tutta la conferma che se minchia con sotto non vedo la pedaglia se la prendo in gulo eh cioè vabbè dai oggi attacca il resto non riesce a prendere palla a juve sabbia recupera e ora ha il possesso nella sua metà campo madonna mia ti prego guarda la fibrillazione c'ho un fottio di fibrillazione vi giuro perché la partita è molto complicata guardate lo sponsor di oggi mossa è sapore da recuperare palla il foggia recupera palla riccardi riccardi sa la giochicchia e la passa al portiere perina madonna ma passala bene che già non c'è salina e soggio che è in stato febbrile giusto giusto il nostro miglior giocatore nella fase realizzativa che è un difensore ci serve il difenso come il feccato e ci si fa quello che fa il gol così in mezzo non arriva pallo laterale per la juve sabbia madonna mia madonna c'è pallo laterale per la juve sabbia sto cacata addosso l'uomo i miei anelli abbattuto madonna ma ok di nuovo laterale per la juve sabbia di nuovo madonna oh madonna oh madonna madonna sembra sto facendo capire che è stato accaduto la juve sabbia vero il vesto spazza via con la testa recupera la juve sabbia c'ha la palla in mezzo esce perina recupera perina mi stanno schiacciando eh certo che mi stanno schiacciando siamo col cazzo in culo bro perina si tiene la palla la mette a terra perina e la gli lancia verso il centro del campo mosso se la prende di testa gagliano non riesce a passarla a nessuno arriva giocato dalla juve sabbia porca silvestro però rimane sempre in possesso juve sabbia mi fa male ripartenza eh si è ripartenza noi siamo la mo' è la big ripartenza la Lazio gioca male infatti infatti la Lazio ha giocato proprio così no palla la juve sabbia attenta mamma mia che brivido gol ha segnato la juve sabbia così dopo tre minuti e mezzo c'è tre minuti e mezzo già fatto il gol di botto di botto di botto non ho mai capito io perché è stato tutto fulminio ma non fulminio che hanno fatto l'azione fulminio che rimpalli vari da una fottio di rimpalli non so che fu il gioco chiedevano qua non so veramente che fu il gioco chiedevano ha segnato un giovanissimo giovanissimo ha fatto gol leone con numero 55 leone con numero 55 ha fatto gol ma ho palla per silvestro prende palla tonin tonin falciato che è successo qua calcio di punizione calcio di punizione silvestro alla battuta andiamo non sembra l'abbia toccato non sembra che lui l'abbia fatto fare in realtà vincenzo ha battuta milico ha battuta per metterla in mezzo milico la vuole mettere in mezzo sul secondo palo papazzov la passa a vezzoni vezzoni in mezzo a chi a nessuno infatti recupera la juve stabia mosses recupera la palla cascone la passa per milico milico fa cambio gioco vezzoni al pallone vezzoni se la gioca metti in mezzo madonna che rischio per la juve stabia il rischio c'è stato e fa già però rimane in attacco recupera auger fa già la fascia da capitano tascone palo attira per la juve stabia che palle c'è l'attacco c'è mo stanno attaccando mo stanno attaccando hanno preso il gol stanno attaccando hanno preso il gol hanno deciso di attaccare prima no mo che hanno preso il gol auger ha la palla auger auger a prova passare a gagliano ma recupera la palla silvestro la palla laterale per la juve stabia quanti palle laterali si prende la juve stabia quanti palle laterali si prende scusate e se la passa questi vogliono già fare melina ma che la juve stabia vuole già fare melina juve stabia cerca di di sbloccare dalla retroguardia leone al pallone l'autore del vantaggio la difesa del foggia regge attualmente recupera millico recupera millico millico può recuperare tutti palla per tascone pezzoni non riesce a recuperare no calcio d'angolo pezzoni fa un miracolo recupera palla e la fa sbattere sul giocatore della juve stabia che la manda fuori primo calcio d'angolo della partita mi sembra millico batte mi dica la battuta discussione in aria l'arbitro fa capi chi comanda qui palla per tascone che la passa che la mette in mezzo tascone tascone che è successo qui vantaggio non so che è successo pezzoni pezzoni sta facendo l'azione pezzoni a chi la passa giocatore da juve stabia che ha il suo stesso nome aggiungerei oger fallo per il foggia oger si guadagni un fallo candellure ha fatto un fallo su oger non ho capito come che è successo azzo capita ha messo il braccio tipo qua l'ha fatto tipo cadere palla tascone fa scattare il gaiano ma non riesce a prenderla ha giocato da juve stabia spazza oger recupera tascone chi è millico fa cambio gioco per silvestro che accetta molto bene il cambio silvestro può ad accentrarsi silvestro può fare l'azione solitaria palla per vincenzo millico la mette in mezzo tonil tonil madù calcio d'angolo madonna mi stava il gaiano pronto a colpire l'1 a 1 stava il gaiano pronto a colpire l'1 a 1 l'ha salvato in calcio d'angolo su un assist pazzesco di tonil sarebbe stato al volo di prima mamma mia millico va la battuta chiama uno schema con la mano la mette in mezzo millico gool gool ha realizzato il numero 18 davide riccati mamma mia primo gol con la maglia del foggia di testa è di testa non ho capito che non si capisce che ha segnato non ho capito se è silvestro riccati io penso sia stato riccati perché è stato lui fatemi sentire un attimo aspetta fatemi sentire il gol è valido il gol è valido nel frattempo che ha segnato riccardi ok ha segnato riccardi 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 1 a 1 ha segnato riccardi riccardi madonna mia che ho gridato assai no per sapere ho gridato un po' troppo così ho gridato un po' troppo non lo so ha il pallino del gioco di nuovo a giubestabia che prova a rimettere la testa avanti mi ha donato 2 euro ma grazie con il super chat del gg non so perché non è apparito l'alert in realtà però è arrivato e grazie c'ha la palla papazov palla di papazov la ripassa millico credo che la ripassa papazov che tipo verso gagliano che cerca di recuperare palla che è stata appresa da giocatore della giubestabia solo che sbatte tipo in faccia non ho capito il giocatore vabbè vabbè rimessa di tiam ex portiere foggia aggiungerei era il portiere del foggia la scorsa stagione da tipo gennaio giugno ha fatto su una partita i playoff no due partite ha fatto i playoff contro potenza bisigno ma mo è arrivato il bisigno vabbè che l'alert box si è messo di cazzo non so più dove minchia metterlo anzi me lo sposto già me lo spostiamo è arrivato un po' di cazzo è arrivato un po' più tardi lo mettiamo qui dai lo mettiamo qui la Juve Stabia mette il pallone in mezzo pazza via arriva Tascone sul pallone Silvestro ma passa malissimo per Tonin che non riesce a recuperare il pallone che viene recuperato la Juve Stabia viene a prende madonna mi viene al pallone ma la palla Silvestro Silvestro Tascone fa una triangolazione tipo con Tonin che sbaglia il controllo pallo laterale per la Juve Stabia a metà campo non ciao 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 oddio pallo per il foggia non ho capito dove è il fallo ma il fallo è per il foggia va bene va bene non ho capito dove è il fallo l'arbitro è felice così l'arbitro è felice e sono felice anche io Monses la passa Icadi autore dell'una no autore dell'una uno perina il pallone Papazov Papazov avanza un bel po' la passa Millico che fa uno bello scambio con Tonin tangolazione con Millico cambio gioco per Silvestro a metà campo Silvestro si può accentrare sbaglia il passaggio ma ritornano a Tascone Bezzoni Bezzoni si ha la dribbla Bezzoni sulla faccia sinistra passa indietro per Orger Tascone Bezzoni la passa verso Gagliano ma non ci arriva nessuno con il contatto a un football segnato Silvestro e noi Icadi senti allo stadio hanno detto Icadi proprio allo stadio senti allo stadio hanno detto Icadi c'è roba che quindi manca si è capito se quindi manca allo stadio si è capito che cazzo è successo eh fallo 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 se per dirti non si è mai capito allo stadio che hanno detto Riccardi perché avevano segnato il Davide cioè hai sfruttato Riccardi cioè non si è capito un cazzo quindi se è stato Riccardi pure io ho detto non è stato Riccardi è stato Silvestro non lo so sotto c'è lo sconso ma chi se frega ma chi se ne ma ci cazzo c'è uno Frank e in alla palla spazza verso è stato spinto con inspinto a metà campo fallo inutile fallo proprio inutile è stato fatto un fallo proprio brutto e inutile non c'è nessun cartellino ma mi ricorda quella cosa che ha fatto Marusic che poi deficiente espuso per reazioni per proteste però stesso un fallo che ha fatto su Learo fallo per il Foggia perché il giocatore della Juve si è piegato e ha fatto andare il giocatore del Foggia di testa a terra Tascone ha partito subito il Foggia ripassa Tastonina Tascone Silvestro ha la palla Silvestro può andare sulla fascia palla per per cambio gioco hanno fatto parte Rezzoni che non riesce a riprendersi la palla Rezzoni è pazzo poteva rischiare un bel cartellino lì prova Pierina spazza fuori dall'aria sua pazzo è un pazzo signore è un pazzo mi sono impazzito di botto dove stavi in avanti ho già non riuscito a recuperarla in mezzo adorante rovesciata di cadi per spazzare via la palla però non ha gli effetti sperati perché la palla è ancora possesso Juve Stabia città di Castellammare di Stabia vicino Napoli oh palla foggia perché ha sbagliato il controllo l'attaccante da Juve Stabia quindi mo partirà bari merda mamma mia gratuito proprio gratuito gratuito ma nessuno ti dice sbagliato probabilmente gratuito ma nessuno dice che hai sbagliato Pierina batte e arriva verso Gagliano che non riesce a prendere ho già recupera palla vantaggio no non c'è neanche fallo balla proprio mandata via mandata via proprio la palla male da Juve Stabia che la presa proprio per Inna senza problemi era tipo un lancio ma non c'era nessun attaccante avanti Tonin che è attaccante la passa per Ercolani Daiana il pallone Millico palla per Riccardi palla per Ercolani colpita dal giocatore del foggia non ho capito le telecamere in serie c sono proprio difficili perché c'è una che si muove mi saluti mi chiamo Alessio ciao Alessio giochi a minecraft no non tanto bro sei gai no mi dispiace non sono come te mi dispiace o Gerg no recupera Millico pallone Millico Silvestro mi segno di chi Lorenzo sei iscritto al canale ma grazie ma sono 1873 Cagliano fa un tiro di merda proprio per Tian che roba regalata comunque minecraft in realtà volevo portare 1894 grazie ancora grazie mille 1893 guarda il numero è proprio casuale nicolas gastoldi ciao carissimo io mi sto vedendo la partita qui di serie c ieri il mio compleanno mi fai auguri auguri è uno scherzo ma stai tranquillo tanto qua c'è tutto il fatto di fare 1894 funziona così il counter è sempre così il counter è sempre così Tascone la passa Silvestro che recupera Silvestro può fare un botto di campo può fare un botto di campo viene fermato fallosamente dall'attaccante che attualmente ha un bel po' di gol con il numero 9 sento aspettato i minchi ma è da tanto che ti seguo però dimmi dimmi ci sono la chat più o meno la guardo perché non è un gioco che mi tiene Gagliano amo Tonini recupera Gagliano al pallone Gagliano la passa Tascone Gagliano ha sbagliato l'appoggio ti adoro grazie grazie a tutti di quello che state facendo ma come ti chiami mi saluti eh certo Lorenzo figurati se non saluto saluto a tutti a la fine madonna oddio ecco la mia fermata fallosamente la mia metica di sono light 836 ciao mi chiamo Lorenzo un altro Lorenzo ci sta ciao ma qua nessuno che è interessato a vedere un po' la partita cioè ma quanti iscritti hai sta il counter qui sopra sta il counter qui sopra questo è il counter proprio live qui sopra stiamo per il counter Alina Patu grazie ok il counter è qui Maria Giorgi salve ciao ciao la nonna mia io devo parlare e devo vedere le partite io ho due schermi io ho letteralmente due schermi in faccia ed è un casino leone l'autore del 1 a 0 vi marco di Uvestabia mi chiamo Tais aspetta Tais se mi saluti mi scrivo e si chiama Foto Elisa quindi aspetta ciao Tais Tais Tanjiro si è iscritto ora è arrivata la notifica grazie oddio si è verso la spazzavia ma quanti anni hai 19 sono abbastanza giovane si può dire sono abbastanza giovane per ora sono abbastanza giovane si può dire sono molto giovane un giocicello sono un giocicello ho fatto male ciao da Napoli che è tif l'Uvestabia palla l'Uvestabia è una zona a foggia non c'è fallo già spazza io non riesco a fare un'azione ha recuperato l'Uvestabia recupera l'Uvestabia recupera Vincenzo non sbaglia il passaggio per Vizzugni Vizzugni ferma non fallosamente quindi Vizzugni puoi partire Vizzugni puoi partire non è fermato fallosamente Vizzugni può continuare l'Uvestabia l'attacco riccardi alla palla va in fallo l'attivale per il foggia ma giochia forte no in realtà quanti like hai e iscritti gli iscritti come ho detto stanno qua sopra cosa per niente hai perché tanto che non ti seguo me lo dici allora io solitamente faccio gaming faccio gameplay cioè faccio live su Twitch e YouTube e faccio anche i video sto spiegando tranquillo faccio live solitamente di video giochi oggi è un po' speciale l'occasione e faccio video sempre di video giochi è molto raro che faccia altro tipo oggi più che a forte in realtà molto poco sono più orientato su universo Nintendo Giorgio 08 Napoli no Napoli brutta oddio io devo pensare la partita io sto pensando alla partita nel frattempo devo vedermi 300 schermi cioè devo vedere uno schermo qui ma dopo la fai la diretta no è la diretta la sto facendo oggi cioè la diretta e adesso basta perché altrimenti questa finisce tipo per le dieci e mezza dieci e mezza si può dire troppi eeeh cosa significa e domani domani si la faccio la farò su Twitch domani quindi se non mi seguite su Twitch vi consiglio di andare dopo ti sei mai chiesto che con più di mille video e meno di me iscritti in realtà no non mi interessa in realtà tantissimo io non pubblico per avere chissà che cose ho pubblico perché mi diverto questo lo dico ma tifo Juve azzo mi dispiace che oggi è andata male col Geno mi dispiace per Valovic esce Perina però non però Papaz va a buttare fuori cioè va bene no 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 Twitch mia madre non vuole mi dispiace che giochi solitamente Nintendo hai bei continui però dovresti ricordare la gente che scrive se non serve non voglio tifo Inter che schifo Juve quanto fa l'Inter attualmente come fa l'Inter cioè la Juve che sta per fare il calcio d'angolo vediamo come va a finire questo calcio d'angolo male sta ripartendo il Foggia tipo recupera palla non c'è nessun fallo la Juve continua a giocare in mezzo fuori FIFA 24 io ci ho fatto in realtà la serie su YouTube di una carriera con la Lazio l'ho fatta la carriera quindi se scorrete un po' nel canale la troverete è una di quelle serie che ho fatto in live tantissimo il passaggio che ha fatto comunque risponde alla domanda cioè alla frase fai bei contenuti per dovresti ricordare la gente di iscriversi in realtà non voglio dirlo perché varie motivazioni la gente se si vuole iscrivere lo fa voglio che ci sia gente che proprio è iscritta perché ha proprio pensato mi piace la persona proprio mi piace di più in questo modo Vezzoni attacca Vezzoni Franco provare a smarcare ti guadagni un bel foro laterale bravo grazie grazie mi piace un po' tipo adesso che ero 890 inizio live è andato così io non ho detto mai di iscriversi al canale io mai l'ho detto la gente si è fatta così di botto io non ho mai detto iscrivetevi io non l'ho mai detto probabilmente la gente ha visto mi piace il contenuto mi piace la persona perfetto a me piace molto di più così Tony la palla Tony 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 la passa indietro per Vezzoni Tony recupera il pallone Tony si smarca Tony viene fermato non fallosamente Papazov recupera benissimo il pallone Papazov e si guadagna un bel fallo laterale oddio era un po' falloso il contesto su Tony diciamo questo è un accento che gioia di gucchia per le mani che a meno vi siete svegliati quanti anni hai quanti iscritti hai Kamado Tanji che hai cambiato anche il nome mi sembra sei la persona di prima stanno proprio qua sopra Gaiano è stato fermato non fallosamente di nuovo per Colani la passa piena comunque stanno qui sopra gli iscritti cioè attualmente sono 898 attualmente poi si vedono Papazov la passa Toscone che non riesce a passare la vena al compagno recupera Leone che ha fatto l'1-0 Già prova a recuperare un botto di palacorre tantissimo 890 è proprio bello uccisi abbonata Roma merda ma no Roma merda non si capisce se caccio caccio d'angolo ok caccio d'angolo non si capisce niente niente se avevano due palloni in campo io ho detto cosa cazzo è successo niente metti in mezzo vai a tutto recupera recupera la passa Ogier 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 la passa Millico 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 non riesce a smarcare ma arriva Toscone che non riesce a superare manco lui ha fatto una bellissima cipolla giocata da Juve Stabia contropiede che non sortisce a nessun effetto Roma merda sempre non si dice a nessun effetto Pierina la passa per Vezzoni Millico per Toscone Toscone si tiene la palla può passare la Millico ma non ci arriva nessuno recupera la Juve Stabia Alla per Tiam Lione al pallone quindi almeno mi sta abbandonando piano piano Alla proprio Juve Stabia che vuole proprio far dormire le partite vuole proprio far dormire la Juve Stabia la Juve Stabia vuole proprio far dormire si sta proprio in difesa fa dormire avanti a 300 volte lo stesso passaggio tra due giocatori uguali o Ger avanti a 300 triangolazioni senza triangolo però Piam recupera passa il giocatore suo sono passati solo 30 minuti e qui 1 a 1 2 gol io che sono impazzito una volta proprio di brutto guarda Caglio e Stabia ma attacca sono a tiro Pirina recupera era fuori la palla ma ha recuperato molto bene bravo Pirina bravo portiere la Eva toccata Papazov mi sembra la Eva sporcata Papazov altrimenti sarebbe andata proprio bene se importa palla per Tonin non riesce prende la Tonin recupera Riccardi che passa Silvestro Silvestro comunque noi abbiamo un segno messaggio che annuncia quanti mesi sono abbonata guarda è sempre che ci hai fatto un abbonamento non c'è fallo su Gagliano quindi è fallo laterale Gagliano che si lamenta Gagliano comunque si lamenta perché pensava di aver subito fallo possesso Juve Stabia ha laggato un attimo now prova ad attaccare la Juve Stabia con il suo bomber leone non mi ricordo i due giocatori della Juve Stabia modestamente alla sempre fallo fallo in attacco da Juve Stabia va benissimo fallo in attacco della Juve Stabia ok ok Mercolani Riccardi cortissimo questo stop che non è avvenuto neanche Ladi sta si sta cagando sotto Ladi secondo me Ladi si è cagato tipo passai Ladi comunque Ladi è proprio cagato Ladi è cagato pensa che prendiamo un gol da un momento all'alto secondo me conoscendo il calcio si è cagato pensa che prendiamo un gol da un momento all'altro come sempre sulla fascia a destra si provano ad accentrare si pensa a Papazov involontariamente Silvestro passa Malatonin perché se giocare la Ladi ma come Tonin viene falciato brutalmente no no si è falciato da dietro si continua a giocare quando finisce la partita che certe domande quando finisce la partita ovviamente non posso dire quando finisce la partita solitamente 10 e mezza dovrebbe finire dovrebbe finire sulle 10 e mezza dovrebbe ok forse un pochettino più tardi 10 e 35 10 e 40 però dalle 10 e mezza in poi può essere sempre la fine mamma mi ha fallo laterale per il foggio ok comunque ricordiamo che fallo da foggia madonna sandisi non gli hai dato il fallo hanno fatto rivedere il fallaccio non è fallo babbino non è fallo si contento bella la palla palla sbagliata per Tonin cazza oh la un bel labbio bellissimo oh si fa la strada il giocatore della Juve sabbia che la mette malissimo cioè Silvestro tocca malissimo Silvestro esce Pena esce lui la scambia con Papazov la strettaccia di Miano vuole far andare la scuola tutti in avanti fanno a dire il replay di Pena che recupera la palla in questo modo pallo laterale per il foggia batte Herculani siamo nella zona foggiana attualmente siamo a metà campo alla rimessa Herculani spazza via Tonin recupera la madonna addirittura possesso Juve sabbia nella loro area siamo vicinissimi alla metà campo non la superano hanno paura di superare la metà campo superata la metà campo ora si attacca si ritorna nella metà campo la Juve sabbia che viene subito risuperata provano a fare un attacco brutto che finisce subitissimo tra le mani del portiero su Nero Riccardi Tascone per Herculani Tonin alla palla baglia il passaggio Tonin per Silvestro Tascone Tascone fallo non è fallo non è fallo non è una sessione di 3 contro 3 attualmente anzi 4 contro 4 all'inmezzo alla seduzione che poteva tentare Gagliano non riesce a recuperare triangolazione da Juve sabbia mette in mezzo rovesciata per in madonna mica rischio non c'è nessun gol siamo uno pari messa laterale per il foggia cosa è successo rovesciata dell'attaccante della Juve sabbia al volo perina prende scontato tra papazov cosa di tutto si parlano cudine tonine da indicazioni tonine i cudini a tonine di come muoversi i miei piani su due giocatori uno foggia e uno Juve sabbia madonna che roba no palla per ercolani che andrà a battere la rimessa laterale rimessa laterale foggia di nuovo che è molto più avanti adesso rispetto a prima molto più avanti ecco l'agna chi la vuole passare vuole passare verso tonine che non riesce a controllarla bene attacca la Juve sabbia che non riesce bene ercolani passa silvestro silvestro sbaglia il passaggio il cadi recupera il cadi recupera auger passa di testa per tonine tonine la ripassa auger tengo l'azione di testa non fatto auger la passa per gagliano gagliano bruttissimo non non era un tiro con controllo che è andato verso la porta non è stato nessun problema per il portiere del il vesto recupera provo laterale per la Juve sabbia che roba che roba succede si è fatto mai giocatori dalla Juve sabbia con il numero 19 ovviamente contatto di gioco perché comunque si sta rialzando come se niente fosse successo farò laterale direttamente credo direttamente farò laterale perché è un contatto come tutti gli altri ma passa indietro la Juve sabbia non vuole attaccare la Juve sabbia non vuole fare il tiro vuole controllare e stancare mentalmente la la passa malissimo il bomber la passa al fondo del campo la passata al fondo del campo l'allenatore della Juve sabbia dà molte indicazioni su fare più attacchi minchie più attacchi minchia un attacco lo fanno in due secondi ma doca ma roba che ho cazzo ci sono messo come nick 2 più due uguale one fish cazzo significa pena ha fatto questo segno la mette molto oltre la mette a campo tascone il vesto del pallone tascone la palla la passa per tonin gagliano pallo laterale per il foggia che stava attaccando ercolani in avanti ercolani in avanti questo era fallo questo era fallo monumentale con questo fischiato ciò che non ti fa tipo percolani tonin silvestro tonin recupera la palla tascone vantaggio non c'è nessun tipo di fallo si continua a giocare la juve sabbia pronto bruttissimo di gioco siamo in aria di rigore però c'è un passaggio di testa e quindi perina con le mani silvestro il vestro ogere il capitano di oggi risale in disponibilità dei giocatori più rappresentativi dal primo minuto tonin ogere il vestro la passa ma un giocatore da juve sabbia dall'altra parte del campo non attaccano di nuovo non attaccano di nuovo palla ai giocatori da juve sabbia che ora stanno superando la metà campo bello il passaggio da juve sabbia e avanza sulla fascia destra viene fermato da vezzoni rimessa dal fondo vezzoni è uscito nel miracolo vezzoni in mostri sta dialogando in maniera molto brutta vediamo cosa è successo no io non imparo non capisco sono dei carassi questi sono primi il problema che sono primi della classe sono quelli forti questi sono quelli questi sono quelli forti la palla di penna è stata recuperata adesso u caiano no brutta il passaggio di vezzoni per millico che si era già mosso dall'altro lato millico prova ad andare non ce la fa la ripassano indietro questi dicchi lasciano agli altri fare la partita no loro si tengono il pallone sono loro a fare la partita se loro si tengono la palla tutta la partita loro hanno il processo completo alla fine belli recuperati Silvestro alla rosso nira si cascone Silvestro parlo laterale di nuovo per il foggia si supera si supera una certa metà campo ecco lani batterà la rimessa laterale l'italiano viene fermato ma non fallosamente quindi è rimessa laterale per la Juve Stabia oddio oddio cosa sta succedendo qui cosa sta succedendo qui veramente madonna cosa sta succedendo sono già le 9 e mezza quindi è passata già un'oretta di streaming e sono passati soltanto 44 minuti e 45 dall'inizio della partita abbiamo visto ben due gol fa pazzo recupera Tascone fa la pazzo Tascone ci saranno sicuramente dei minuti di recupero non so quanti ma credo che saranno due secondo me o ger o ger o ger vediamo quanti sono i minuti di recupero tonin tonin parla per silvestro non c'è nessun recupero si stava attaccando il foggia fischia perché non c'è nessun recupero e probabilmente andrà tutta la secondo tempo come stanno facendo ultimamente stanno diminuendo i 6 ultimamente i recuperi del primo tempo per andare sul più 6 e più 8 del secondo tempo ultimamente oh io noto questo poi non lo so quindi siamo all'intervallo e 1 a 1 siamo 1 a 1 minchia situazioni 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 oggi che sono capitate incredibili oggi cosa si può dire cosa si può veramente dire non so cosa dire vogliamo parlare un po di quello che ci va cioè cosa ne pensate voi di quello che sto facendo oggi di come sto raccontando oggi fatemi giocare un part 3ds che c'è una roba da fare via il pokemon via 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 piazzami street pass nel frattempo maria nel frattempo parliamo un po parlatemi che tanto vi cago mi metto un po a giocare a 3ds che tanto c'ho 15 minuti di cazzo non c'ho un cazzo non la fare 15 minuti rientra qui rientra 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 questo gioco ce l'ho da 2020 lo sto finendo nel 2024 perché l'ho letteralmente gustato il 3ds grande ingresso cosa posso giocare cazzo avevo soltanto 15 giochi una giocata animal crossing la città che avete visto poi avevo sentito una città canzone su 3ds pari di questo pari di questo pari di questa non so che si sente anche se non parlo no non so che si sente anche quando non parlo lol nintendo switch ti senta ok sto giocando un po a piazza street pass ho tipo 246 quindi ragazzi se dovete andare a qualche fiera qualche fiera del sud possibilmente avvisatemi che porti il 3ds con me c'ho un bel po' di giochi della street pass solitamente avventura street pass cazzo solitamente avventura ho visto cappello di kibi quali di questo si nel frattempo io mi cazzeggio parliamo parliamo un po' rosso benvenuto ad avventura street pass dai diciamo che quando ho dovuto cambiare l'Sd che l'altra è andata proprio scomparsa perché proprio si è bruciato in cibo cazzo è possibile me la vedi fattibilissima ragazzi porco giuda sei fattibilissima dicimi che siamo 1 a 1 diciamo 1 a 1 dopo che secondo tempo della partita certo secondo tempo della partita cambi che faresti attualmente nessuno attualmente nessuno stiamo messi benedetto a un porto più console in giro da quando mio bano non metti di S certo ovviamente l'id te la devi mettere in un posto sicuro non c'è niente mancato fuggiti fuggiti ma l'idea che non lo si introno minare sta in panca sì perché abbiamo centrocampo messo bene attualmente abbiamo una difesa che sta andando bene abbiamo dei difensori di ruolo oggi abbiamo dei difensori di ruolo per di noi l'esperienza e però dai ci sta qualcosa di molto più interessante dell'esperienza la forza ho trovato il tessuto minchia tankorang non gioca no tankorang è proprio uno di quelli che entra solo panchina mi fissi avevo fatto avventura a street pass stanno facendo vedere un filmato sul bologna tipo di ferguson mi sembra o ferguson dovevano giocare contro l'empoli vede gli skydolanti hanno riunito tutti beh dai sentimi male empoli cioè ferguson chi che ha fatto gol l'adi contro l'empoli ieri zigzag contro il tuo ino zigzag contro il tuo ino zigzag che mi dice come lo vediamo in giocabile avvolto in allenamento in talve ha addirittura la possibilità che può solitamente alzare il suo livello tutto che il premier re finora è stato incredibile poi è grosso se non mi sbagli alto mette 93 un giocatore forte molto fisico con la farra ai piedi miglio come stiamo fottuti un top player deve essere unico per i difensori marcarlo nooo non c'è un po' dubbi bra tipo vocello se fosse bologna inizio della giuria che si è votato per la champions league con il capello fantastico vedi stai mai rimasti scioccati ma quasi quel momento di anni in cui si può capire cosa succederà ma tu che di bologna è in zona champions è vero come va il tuo patrimonio di bossa street pass fa un pochino sboccare non so se si vede tantissimo che su una bossa street pass tempio che stanno giocando bene ma effettivamente nei piedi di di sette a terra minchia siete meglio della lazio puck ma sicuro allora ho vinto zero ma anche di altre squadre beh 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 oh ma dici che ho perso dei soldi eh ho avuto più 700 mila perché dici che ho perso dei soldi perché secondo me è una vita di più bologna dell'atalanda madonna luis ferguson il love with bologna da venerdì 15 marzo minchia fatemi giocare un po' a grande battaglia stas minchia sto proprio a cazzeggiare cioè mentre voi mi scrivete io sto a cazzeggiare sul 3ds sono molto cringioso però ve l'ho detto che io quello che faccio qui è chi è che è online c'è un amico online o chi cazzo è ciao ma no ciao però come stai ma sciu che cazzo giochi non disponibile oh cazzo stia fa oh no sciu cazzo fai cazzo cazzo fai stai cambiando il t mamma di poi su 6 dote che arriva in verticale perchè è fatta in verticale tanta fiorentina l'ho sentito di quello perchè c'è il bambino col penne in mano no perchè il bambino sta pisciando beh dai devo fare un po' di battaglia stitpass senti io con 7 giorni non ce la faccio ma in che senso la pubblicità c'è il bambino di 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 cosa brutta cioè da zone anche su schermo ma come da zone anche su schermo ma che è sta roba cioè tipo la di il bambino delle pubblicità tipo tipo fatto di latta stava col così male a pisciare dell'acqua per promuovere la roba alla prostata ok sono muigno alla finti muo insieme vabbè dai muo muo dai non non so chi sia peggio madonna ma tra poco dipende il secondo tempo della partita e muo non lo so non lo so nini io forse ma chi ha attualmente no voglio capire chi ha attualmente la finti è italiano l'italiano via immune diamo una canzone che posso farvi sentire per guarire nel frattempo soy un pez no spanish guardate il mio aulacico la dita quando si parla in spagnol sentite che qualità sentite zitti ne ha pagato comunque il stesso livello i 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 direi sai però ma tanto far schifo entrambi ma da poco dipenda la partita è e donna che si votano a noi intanto i campioni non sembrano esserci cambi attualmente per il rosso neri non sento come non senti non sento non senti super saiyan cosa non senti ora senti ora senti tonin parla con l'arbitro cosa vuole fai tonin con lui facciamo schifo senti fino a quando andati in europa va tutto bene tenetevi l'euro parola non sembrano esserci cambi attualmente per foggia iuri stab entrambe zero cambi mi sembra siamo in gioco se cambierebbero ma non sei se è in meglio o in peggio non sai se è meglio o in peggio è partito il secondo tempo di foggia juve stabia è meglio non puoi saperlo pezzoni pallone papazov passa per millico che nel primo tempo è stato visto quasi per niente millico non supera pogger spazza via pogger ha spazzato via il pallone con la fascia a destra della juve stabia giocatore del foggia a terra vezzoni a terra che non chiede nessun cambio e non chiede nessun intervento medico quando l'arbitro stava letteralmente dicendo di chiamare i soccorsi vezzoni non vuole uscire dal campo e sta continuando a giocare professionista vero professionista lui stabia il pallino del gioco siamo nella zona del foggia adesso questa abbia che fa una triangolazione altri giocatori questa abbia nella zona del rosso neri spazza via spazza via io dico forse l'italiano mette sottile in zona mandata forse anche i birrachi in zona mini perché di sta cosa senti l'importante è che andate bene come l'altro finch'ando va bene sai che andava bene finch'e va male va male finch'e andava bene sai finch'e andava andava con Martuscia lo stanno idolatrando per l'unica partita che ha fatto quindi finch'e va a vincere vince e noi c'è una natura di qualità e godiano ci è commisso che seglierà ma si una quando resta va bene c'è una natura di qualità e godiano ci è commisso e vabbè dai qualità ma deve portare millico millico a chi la passa la voleva passare a gagliano però era in mezzo a due giocatori esce mamma ma ha provato lo scavetto il giocatore la juve sta perché lei strana perché di b che è successo adorante ha provato lo scavetto a piena e il pallone è andato sopra perché diciamo era l'unica soluzione poteva fare perché era troppo indietro al pallone da scona la palla ercolani silvestro di bilano in verticale e appunto in verticale è buono è buono che sia in verticale no palla foggia troppo avanti millico perché in verticale è così che senso serviva a farlo orizzontale c'è l'opzione per farlo verticale non ho motivo di non provarlo è stranissimo ma come stranissimo cosa mi serviva a farlo in orizzontale serviva a farlo in orizzontale sapete quanti giro si ho fatto se dovevo far vedere la mia facecam completa millico il pallone invece di più in verticale ovviamente per il gameplay ovviamente ci teniamo l'orizzontale ma per una puttana del genere che cazzo cambia cioè in questi casi che c'è la roba che io sto a parlare non c'è nessuno la qualitatore si modifica in verticale se è al telefono o se è al computer il computer non cambia niente al telefono è come gli shorts quindi non so come cambia gli shorts il montello si sta vincendo col cotone minchia davvero mamma mia non fa nessun bel cross la juve stabia si presto recupera ma porca allora come fai qui? non consigliere questo canale che cazzo cambia no almeno io credo sia così eh che io dico quel che so penso di sapere Gagliano ha la palla Gagliano non riesce a guardare una rimassa laterale si è messo il tascone si è messo il tascone che non riesce ad andare avanti incredibile la difesa da juve stabia è una delle migliori attualmente d'europa nei campionati professionistici con solo 17 gol visto quello che ha preso oggi sono 17 in tipo 32 partiti 17 gol subiti una delle migliori difese Oger Oger mamma mia non c'è fallo palla Oger 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 Perina Ercolani non sanno non vogliono non riescono a uscire però Perina la spazza via Gagliano non riesce Gagliano andrebbe sostituito ma non ci stanno attaccanti sarebbe Embolo ma Embolo non è una punta quindi dovrebbe andare spostato Tonina andrebbe messo tipo oh fallo per il foggia olè Cosa sta succedendo tipo il caro il giocatore da Juve Stabia facendo col braccio così ad allargare facendo allargare il braccio ha fatto cadere il giocatore del foggia questo è stato fischiato fallo perché ha bloccato l'intervento sul pallone Riccardi no la batte Perina per fare proprio per andare proprio in attacco perina l'inter sta vincendo figurati non mi ha segnato darmi anni prende palla perina palla per vezzoni e viene recuperata benissimo da Tascone pallo laterale per il foggia pallo laterale rosso nero lo batte vezzoni attualmente o lo batte papazov lo batte vezzoni palla per il numero 10 non riesce a prenderla papazov la passa a Tascone non riesce a gestire la Tascone la passa malissimo in maniera proprio antispotti cioè non è antispotti è una cosa che fanno tutti la palla invece di dargliela la allungano un attimo la roba che fanno tutti maronna olè alla Juve Stabio sulla fascia a destra fascia a destra papazov non riesce palla fuori calcio d'angolo si stanno fomentando si stanno fomentando adesso non sembra non esserci cambi fa uno schima sta per battere il giocatore della Juve Stabia un altro gol sarebbe proprio killer per la squadra ezzoni spazza via che è arrivato un in incredibilmente palla al possesso che gli foggia adesso fanno vedere il replay di capire cosa è successo ezzoni si è trovato lì di fortuna e l'ha spazzata via parla attualmente di Erculani sulla fascia a destra numero 8 della Juve Stabia con il pallone sulla fascia sinistra triangolazione a 3 seguita le recupera Erculani però sbaglio il passaggio per Tonin recuperata la palla della Juve Stabia ci stanno attivando la Juve Stabia non lo so e cazzo non vedo niente so che la trasferta è viettata per provincia di Napoli quindi non so ci stanno fuori provincia di Napoli perché non vedo un cazzo attualmente Oger pallone Oger pallone Oger toglie da Oger attacca fallo con giallo giallo per Musti che blocca Oger in maniera abbastanza fallosa con la mano gli prende più e la maglia molto falloso come è giusto che sia molto falloso però il giocatore è andato ad abbracciare l'arbitro perché sapeva di aver fatto una cazzata la sapeva di aver fatto una cazzata colossale batte Riccardi per il giocatore da Juve Stabia ok alla papazzo la spazza malissimo Riccardi la passa al giocatore da Juve Stabia non era mai fallo di Milico che non sta facendo un'attima partita oggi di Milico a confronto con l'arbitro semplicemente fallo nessuna munizione nessun cartellino nessun provvedimento disciplinare non è che una richiamo così mi sembra siamo sulla faccia della Juve Stabia provano ad accentarsi arretrando cambiano un pochettino il gioco vanno verso il centro vicini al tiro Tascone vantaggio vantaggio Moses posti in avanti si è invati a me è pazzo madonna è pazzo è stato un pazzo il portiere se l'è presa di testa il portiere madonna mia come hai rischiato di fare un rigore il portiere madonna hai rischiato di brutto di creare un rigore di madonna ha rischiato di brutto il rigore di per un giocatore del foggio a terra sembra però credo che la palla partirà dalla parte opposta del campo che roba molto molto fun molto fun l'arbitro ha il pallone e lo ripassa alla difesa da Juve Stabia neanche al portiere proprio alla difesa li hai fatti avanzare bastardo alla numero 28 da Juve Stabia passiamo la fascia a destra le angolazioni a te completata non sono la fascia a destra si stanno avvicinando stanno avvicinando vanno una bello scatto una bella verticalizzazione calcio d'angolo no la maia sudata la maia sudata la maia sudata è la nostra pretesa continuate a lottare in sua difesa bello la sessione della Nord non capisco questo tocco sembra calcio d'angolo per me per me è calcio d'angolo ma sembra stata rimessa dal fondo mi dico si porta sulla destra e dà il pallone palla a Tascone Silvestro scatta sulla destra fa un giochetto e viene poi superato Papazov la passa bene a Oger 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 Tascone è dato un bruttissimo contrasto di gioco era lontano dal pallone quindi credo non sia successo niente palà fuori cartellino giallo per l'allenatore della Juve Stabia come se mi facesse schifo eh come se mi facesse schifo non è che a me faccio proprio schifo questa roba credo abbiano dato van credo che ora la Juve Stabia voglia dare il pallone al Foggia se no so cosa è successo ok dai il pallone al Foggia sportività di Silvestro al pallone no brutto questo palla per la Juve Stabia se no ormai hai sessanta minuti mancano tipo trenta minuti di gioco più qualcosa di recupero saranno più di cinque minuti probabilmente eh Millicor se la gioca bene a metà campo però sta da solo cazzo ora non ce la fa da solo palla al centro per la Juve Stabia sono spostati solo a destra però sul secondo polo che non raggiunge nessuno forse Silvestro raggiunge invece non c'è fa c'è fallo per il Foggia con un brutto tocco ci sono i giocatori della Juve Stabia che si lamentano eh oddio è una brutta situa è brutta situa madonna si è pazzo minchie è pazzo cioè hanno fatto zoomata sul giocatore della Juve Stabia che fa così che dire non è fallo però mi sembra che l'habit non abbia cambiato idea a riguardo ha provato Gagliana a rindirizzarla verso Tonin non ci è riuscito capita però è andata così però non ti disperare che te la fai proprio tranquillo allora la Juve Stabia siamo intorno al centro ed è proprio centrocampo fascia a destra siamo arrivati alla porta siamo al centro passa lo scarico grossi in mezzo ma non arriva nessuno siamo di nuovo verso il centro palle in mezzo fuori era un'occasione nitidissima la Juve Stabia e sembra ci sarà un cambio per la Juve Stabia entra con il numero undici Piscopo 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 e la fanno rivedere l'azione che era un gol spalancato Fortuna vuole che ci sia stato il Cadiciao sono nuovo la nostra stella marina al è nuovo quindi diamo il benvenuto siamo fascia a destra del Foggia a centrocampo ok il Vesto recupera si Vesta dal pallone dopo uno scambio con il Tascone il Vesto viene fermato fallosamente e si fa un bel dialoghetto l'arbitro con un nuovo entrato Piscopo cioè Piscopo ma cazzo è Piscopo che voluto stiamo? siamo al 63 vado così tanto sembra quanto faccio il game play parlo così tanto palla per Millico Millico sulla fascia a testa Millico Millico la passa Silvestro che la ripassa subito a Millico triangolazione triangolazione Silvestro fallo in attacco fallo in attacco adesso mi scrivo che stai per noi ma che davvero così regalo oddio fascia a destra affoggia che ci pensa a papazzo va sventato ma grazie ma grazie mancano solo 100 per il bene speriamo restino speriamo restino che cazzo io non parlerei io non parlo a 900 fissi io parlo a 902 903 entra Joshua Tenkorang al posto del numero 9 Riccardo Tonin entra Joshua Tenkorang prende il posto di Tonin si sposterà tipo un 352 attualmente sembra il modulo più probabile con Millic e Galliano le due punte è tornato vola dimmi che se n'era andata adesso siamo a 900 grazie mille grazie tante grazie 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 un altro che faccio la verticale devo farla più spesso a sto punto no sto scherzando dai giochi in non fanno per me ma la diversa verso la fascia sinistra diciamo che il pareggio non è proprio buono cioè è buono per la squadra a contro ma non è risultato che a noi serve e che mi sono iscritto io e lo so infatti grazie cioè grazie cavolo 900 è un buon traguardo è voglio il 10 al posto del 9 però il mio sogno arriverà col 10 proprio un sogno col 10 a me mentre aiuta a raggiungere più persone sì e beh sì pallo laterale per il foggio siamo al 66 ok si può fare si può fare Tascone dove sta sulla fascia sinistra parte allora intanto la dovresti fare eh ogni tanto ogni tanto 901 per invare a 8 milioni minghia magari falla c'è la millico c'è la millico se li smarca BASA VEZZONI VEZZONI come che succede rimessa dal fondo per la juve stabia ma come rimessa dal fondo per la juve stabia ma no e cazzo dai dai cavolo si vede ma si vede che la tocca tra l'altro tu mi stai tantissimo simpatico guarda mi fa piacere non sto facendo niente di inusuale in realtà sono scemo di mio sono molto cretino di mio sto sudando sto sudando sto sudando sto sudando però la juve stabia proprio nella zona del foggia sta però c'è il cadi che la spazza la juve stabia sulla sinistra cerca riconforto con silvestro ma passa indietro scarica ogger non riesce senta il tiro murato da icardi tascone per ogger ma c'è tanto la tua voce ma grazie che cazzo vuole avere questa fessa qui che sta volando in camera mia ma cosa vuoi ma cosa vuoi tana una cosina bruttina bisigni Alex mazzei credo sia stato 901 solo che arriva mo madonna mi mo punizione per la juve stabia oh madonna no 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 è cosa brutta no è cosa brutta che cosa brutta cosa brutta non mi piace mo cosa brutta mo Guarda che roba brutta Comunque Signor io vi dico Cioè Vi posso ricordare molte cose Tipo il canale Whatsapp Ora approfittiamo dai Se va il comando Mi sa che non ce lo va il comando Whatsapp io Su questo Allì in mezzo da Juve Sapia non va Aspè Infatti non l'ho aggiornato Vabbè lo mando io il comando Copia il link Questo è il coso di Whatsapp Questo è il canale Whatsapp Colang gioca offensivo Sanamente Stai giocando offensivo Un giuntocampista Tanto con Silvestro Che da gran professionista non fa cazzate Bella Uuuuh Puta ancora Prende palla Dopo un fallo incredibile Silvestro Vai all'appoggio Come si fa a donare In che senso Seconda io vabbè Ma LOL Un simbolo in basso a destra Oddio io non è che sia proprio Comodo con gli shorts Ve lo dico Con le dirette in verticale Perché non ne guardo Anzi ne faccio Mi so di donare Ah non chiedere a me Io non sono capace Gaiano Si butta Ma no Oh E' a noi E' a noi E' a noi Silvestro va Silvestro va Va Silvestro Va Silvestro Per fare Per fare La immessa laterale Non gli va nessuno addosso Lei scrive se bene Donare così Poi mandai un messaggio Madonna E le donazioni Che fa YouTube Gaiano Silvestro OJ 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 Fallo Ma fallo Incredibile E mo è punizione Foggia Mi dico Parla con l'abito Voi donate 363 euro Mo no 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 Aspè 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 Mo non esageriamo Mo non fare Pazzie Te lo consiglio Non ne vale la pena Non vorrei Avere Conseguenze Brutte Perché io Non posso Li dare Niente indietro Perché io Non ce li ho subito Io non li posso Li dare Cioè Perché mi vengono Processati da YouTube E quindi io Guadagno già meno Ma non li posso Neanche Li dare GOOOOO Ho E Ho Inizato Con il numero 15 Luca Eccolo lì 3-1 Ho Inizato Lui Con il numero 15 Eccolo lì E 2-1 Fuggia 2-1 Fuggia E' Fattibilissimo Non si è mai detto Che era da vincere La presa Tenko Orang Gaia Ercolani Di testa Assist Di Tenko Orang Con un gol Di Ercolani E' già Il secondo gol Che Ercolani Fa lo zaccheria Entra Schenetti Al posto Di Tascuna Adesso Siamo al 72 Madò Madò Mi sento male Madò I playoff Sono sempre I playoff Madò I playoff Madonna Mi Ma tutti A dire Sono la Prima Sono la Prima A dire Perché è la Prima Non li Vincete Ma Ma Bravo Simo Madò Mentre Schenetti Che da Mo Kai Che da Anche Attacco Da Più Schenetti Attaccante Da Mo Attacco Al Foggia Cioè Hanno Toglto Un centrocampista Per mettere L'attaccante Siamo tornati Al 3-4-3 Di Inizio Partita Tipo Credo Gaiano Si ha messo Punta Centrale Mentre Scenetti E Milico Terzi Inizio Esterni Palla Fuori Da Io E Stabia Hanno Provato A fare Un tiro Buonasera Dark Wolf Sei Tornata Se Fassi Più Grande Voglio Donare Tanti Sardi Guarda Non serve Sai Proprio Ocil Mercolania Terra Viene Aiutato Dall'habito A Rialzarsi Probabilmente Aveva preso Una Botta Che Non Ho Visto Aveva preso Una Botta Che Non Ho Visto Io Vi Mandò Il Link Di Whatsapp Perché Non Costa Niente Mandarlo Poi Da Whatsapp Si Vedano Tutti Link Di Twitch Youtube Come Sono Impazzito Io Al 2 A 1 Non Può Capirlo Nessuno Io Vedo La La Rite Che Si Muove Io Subito Adesso Devo Vare Devi Andare Immagino Grazie Dalla Compagnia Mi raccomando Buona doccia E' importante rimanere puliti Importante Ci si Vede Alla Prossima Mi raccomando Serve Sempre Lasciare Follow E Alto Seguire I canali Serve Sempre Sperimentare Sperimentare Nuove Curse Parli In mezzo Alla U Stabia Bello Il Contrasto Di Riccardi Cosa Dov'è Il Gialla Riccardi Perché Gialla Riccardi Sperimentare Guarda Avresti Avresti Tipo 20 Minuti Circa E E E Palla Scusate E Palla Scusate E Palla Così E' andato Dritto Cioè E Non riesco A far vedere Però Tipo Così Probabilmente Chi ha giocato A calcio Stacca A pedo Cosa sto facendo Con piedi Tutti Uniti Solo Il pallone E' andato Proprio Ha preso Solo Il pallone E La persona È caduta Che t'aspetti Io non so Capa Apparentemente L'Adi Che capisce Di calcio Lo capisce Probabilmente Apparentemente Chi capisce Di calcio Lo capisce E E Sta Piazzando La parriera Mamma Ma Poggiato Io E Stabia Uno Bellissimo Bellissimo Un Che Si può Fare Si può Fare Si può Fare Tira Perina Paratona Paratona Di Perina Evita Un gol Quasi Già Fatto Ciao A dopo A dopo Allora Prossimo In caso Brutto Perina Paratona E' more Calcio D'angolo Vediamo Passo Ger La rimette In calcio D'angolo Quindi Nuovo Mi sentirei Gridare In casa Nuovo Attacco Dalla Bandierina Per la Juve Stabia Speriamo Che rimanga Così Scusate Che pure Magari Sare In zona Playoff Eh Mai tu Non mi hai sentito Gridare Donna Ma Che roba Putta Schenetti Arriva sul pallone Millico Recupera Millico Millico Per Gaiano Eh Dai Pallo Laterale Foggia Pallo Laterale Foggia Mo Nella Zona Della Juve Stabia Siamo Andati Abbastanza Vicini Aspettiamo Che l'ha messa Fuori Ma chi Palla Ma Putta Mo c'è la Juve Stabia Che ha il pallone Stiamo Metà Campo Papazov Fa un bellissimo Intervento Difensivo Andrioni La ripassa Al compagno Dieci Sono in La fascia Da destra Si stanno Accentrando Sono tornati Completamente In fascia Da destra Provano A metterla Verso Il mezzo Riccardi La spazza Via Rimane Ai piedi Papazov Con intervento Difensivo La mette In calcio D'angolo E Il terzo Calcio D'angolo In pochissimi Minuti Per la Juve Stabia E chiedo Ci sia Una sostituzione Per la Juve Stabia Nuova sostituzione Per la Juve Stabia Esce Con il numero 7 Non so il nome Ed entra Con il numero 14 Medi Sta Uscendo Eh no Capito Che Non fanno Vedere I diti Per Medi Con il numero 14 Lo vedo No Corner Dalla Fascia Destra Quindi Sinistro A Rientrare Il giocatore Dalla Juve Stabia Battuta Via La palla Non va Recupera Tenko Orang Ha parto a passare La millico Però C'erano Tanti giocatori Dalla Juve Stabia Pronti A recuperare Ed ora Juve Stabia Sulla Fascia Sinistra Profonda Fascia Sinistra Trovano Andando a Centrarsi Mezzo Pazzata La palla Ora Palla Gaiano Che non riesce A controllarla Bene Tenko Orang Schienetti Schienetti C'è un'autostrada Per Vezzoni Che la passa A millico 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 No Tentativo Di testa Per Silvestro Che poteva Concludere La pratica E' andata Oltre La traversa Oger Fallosamente Ferma Il suo Avversario Punizione A proprio Centrocampo Già Battuta Siamo Su Fascia Sinistra Sinistra Tengo L'azione A tre Tengo L'azione Bella Questa Tiro Sbate Sul Difensore Gagliano La palla Gagliano Non può Spararla Nessuno Cerca Hai messa Laterale Ma non Se la Guadagna Anzi La Perde La Perde Pallo Laterale Per la Juve Stabia Sulla Fascia Sinistra Corvana Da Accentarsi Mostra Ninaya Di Rigore In Mezzo Riccardi Spazza Via Silvestro Spazza Via Con la Testa Insieme Riccardi Milicola Spazza Via Con i Piedi Però Venere Pessa La Giocatore Di Versabati In Testa Riccardi Via Con i Piedi Siamo A Centrocampo Però Al Vulo Al Vulo Va Con il Piede Solo Che Nel Fare Tutto Nel Riprendere Il Pallone Si è Fatto Il Fallo Ad Oger Che Attualmente Capitano Ancora Perina Va A Battere Vuole Allontanare Il Pallone Tornato Il Carissimo Ti posso Dire Una Cosa Grido Troppo Non Ci posso Fare Niente Perdonami Abbasso Il Volume Lo So Scusami Alla Juve Stabia Sono Monotono Siamo Sulla Fascia Sinistra Ancora Stiamo Accentrando Lomao Lille Così Lille Così Ice Lille Lillino Cambia Il Gioco Siamo Sulla Fascia Destra Però Non Riesce A Controllarla Bene E Tempo C'è Rischio No Mamma mia Cosa Sta Succedendo Qui Papazov Si Carica Della Battuta Del Fallo Laterale Papazov Che Non Ha Avuto Per Niente Spazio Nella Prima Parte Di Stagione Nelle Ultime Sta Facendo Partite Da Titolare Spezzoni Molto Importanti Di Gara Palla Il Partire Da Juve Sabia Non Sai Chi Passa Ciao Hai Mangiato Certo Che Ho Mangiato Minchia Sono Proprio Bene Ho Mangiato Parola Laterale Per La Juve Sabia Ok Arriva La Pariette Ma Mi Ha Tirato Una Parola Nella Pancia Mi L'ho Messo Manchia Perché Non C'era A Spiare Urca Che Brutto C'ha Fuori Non Capisco Se La Terra Ti Saluto Grazie Ti Saluto Anch'io Ok Rimessa Dal Fondo Dal Portiere Sembra L'abbia Toccato Ger In Rialta Tipo Qua Dietro Per Alzare Però S'ha Andato Rimessa Dal Che In Batte Capitani Più Contro Venezia Io Non Sono Di Queste Zone Mi Dispiace Non So Nulla Riguardo Oddio 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 Cambia Il Gioco Siamo Sulla Fascia Dessa Della Juve Stapia In Mezzo Pazzata Via La Palla Per I Giocatori Dario Stapia Ercolani Miraculous Circa Ha Volcato Un passaggio Se la mine Mi dispiace Laterale Per la Juve Stapia Sono Sulla Fascia Sinistra Adesso Fanno Molti Cambi Gioco Sta Detando Complicato Capirla Mettono In Mezzo Tentatio Pazzo Non ce La Fa Siamo Sulla Fascia Sinistra Adesso In Mezzo Basso Pazzavia Silvestro Oger Recupera Però si fa rubare Palla Da numero 8 Palla 27 Che è in Aria Di rigore Scarico Oger Non riesce a recuperare Buongiorno Antonella Adorante Non riesce A paeggiare Il bomber Della Juve Stapia Siamo All'85 Cinquesimo E Qua Se non riescono È un bel Colpaccio Perché Agli Stapia Perdebbe Solo Tre Partite Adora Quanti anni Hai Io ne ho 19 Io ne ho 19 È una Bellità Esce con il numero 28 Giocature Ed entra Piova Anello Con 99 Buon attaccante Foggia Foggia Mi fa molto piacere Non stai allo stadio Sto vedendo la partita La casa mia Perché Uno Non sono Di Foggia Purtroppo E Questo è il problema Ma te ne davo 15 Alla Madonna Mi sento onorato Così Mi sento Molto Onorato Tocco Di Tacco Vincenzo Non riesce Sono A Fascia Stata Juve Stabia Giovanello Prova E Fallo Per la Juve Stabia Bravo Io Sì Io Sì Ma Ragazza Mia La Sto Convincendo Amunizione Per Ogeri Il Capitano Per Proteste Il Capitano Del Foggia Monito Per Proteste Cioè Il Capitano Tipo Sembra Monito Per Proteste Va Bene Sono Un Go Pun Di Saliva Forse Ci Sanno Due Opzioni Per La Juve Stabia La Mette In Mezzo Di Testa Non Riesce Madone Adorante E Adorante No Riccardi Spazza Via Finalmente Madone La Buttata Via Riccardi Ma È Tutto Favolaterale C'è Tiam Il Nostro Ex Portiere C'è Un Cambio Nel Foggia No Ok Sembra Nessi Due Cambi Invece Per Il Foggia Due Cambi Uno È Rolando Rizzo E Martini Quindi Probabilmente Uscirà Oger Per Dar Rizzo Esce Millico Per Rizzo Quindi Esce L'attaccante Per Il Difensore Probabilmente Rizzo A fare La Fascia Adesso Usirà Probabilmente Oger Per Dare La Fascia Credo Credo Dovrebbe Essere Rizzo Capita La Nostra Attualmente Vediamo Chi Altro Rizzo Dopo Un Bell Io Di Infortunio Rizzo Al momento Stiamo All'88 Rolando Entra Al posto Di Chi Non Ho Visto Perché Non Ho Fatto In Tempo Al posto Di Gagliano Rolando Diventa Unica Punta Rolando Punta Ed Esce Andiamo Chi Che Esce Al posto Di Martini 79 Quindi No Ma Che Ti Foggia Anche Te Non Ho Capito Chi È Uscito Al posto Di Martini E Poi Martini Mamma Mia Quindi Stanno Rolando Schenetti Come Due Punte Quindi È Diventato 352 4 4 2 Lo Stanno In telefono Di Mia Amade Oh Ten Corang No Il messo Laterale Foggia Ah È Uscito Ercolani Al posto Di Martini Non Ti Foggia Ah Io non Vedo Che Stai Giocando L'ha Messa Apposta E Non Posso Metterlo Non Posso Metterlo Perché Altrimenti Sky No Sky Me Fa Così Sky Me Fa Così Mi Distrugge Mi Chiede Poi I Danni Tra Poco Tuino Che Squadra Tifi Palla Rimessa Dal fondo Rimessa Dal fondo Batterà Tiam La Rimessa Dalla Fondo Guarda Guarda Stai In Attacco Totale Vediamo Quante Di Recupero Probabilmente Saranno Tra i 6 Gli 8 Minuti 5 Minuti Di Recupero E Poco Claramente Tenkorang Ah no Ogger 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 Spazza Via Parcolo Tenkorang Non riesce A fare Niente Di Ah Io Chi Aspetta Ice Sky Cioè io Now Io Now Cioè io Now C'è il programma Streaming Di Avellino Cosa Ha fatto Avellino Stagiornata Non mi ricordo Non mi ricordo Manco Con chi Giocava Probabilmente Perché È una zona Che non riguarda A me Attualmente Che è successo Punizione È andata Punizione 2 a 0 Contro Chi Brindisi Ah vabbè Ah vabbè Io sto guardando La partita Cazzo Pezzoni Cos'hai Rischiato Ah no Non sarà Più dentro Punizione Juve Stabia Proprio Al limite Dell'area Di rigore Però Spostata Proprio La fascia A destra Spostata Spostata Non ti prego Ma si No Ma Juventus Foggia Perina Mette La barriera Mette Il tiro Fuorissimo No Ma no Manca Tre minuti Sono tre minuti Alla sconfitta Dalla Juve Stabia È una vittoria Incredibile In rimonta Dopo il gol Di Leone Al terzo Minuto O come dite voi Quarto Dipende Tre minuti A trenta Guarda Ma guarda Questo Ma guarda Questo Come si Mette Guarda Quanto manca Siamo al 92 Perché sono Del Napoli Non è che S'ha andato meglio La serie del Napoli Quanto ha fatto Il Napoli Che non lo so Juve Stabia Palla Sulla destra Non riescono Ad attaccare Palla Al portiere Che rischia Ha rischiato Stanno rischiando Stanno Un pressing 1 a 1 Sto a vedere Io Dai Mi sei molto Simpatica Sono una persona Molto Cazzosa Sei molto Oddio 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 Bello Il passaggio Sbagliato Leone Recupera Barbone Grazie Fallo per il Foggia Ok Io lo accetto Volentieri Io lo accetto Due minuti Mancano Due minuti Io accetto E poi il canale Whatsapp Grazie Che mi mandi Che mi mandi Whatsapp Grazie Che mi vede Tutti gli altri Social Invece Ah Per tocco Di mano Tocco Di mano Tocco Di mano Ok Sì Per tocco Di mano L'ha fatto Battene Per Vole Bote Allontanare Non so Capendo Se della Juve Se o no Comunque Sono Del Foggia Foggia E tu Rosso Per il Foggia E' foggia, è bellissima Soppure la sciarpa di là però Non la tiro mai Se non quando vado alla partita Proprio in casa Proprio che vado Io ve stabili in attacco Proprio Arkell Oddio, cazzo c'è questo Arkell Oddio Palli in mezzo, ma no Come ti chiami? Io mi chiamo David Un nome brutto Pallo laterale Per, intendo pericolori Era del Milan Ogier recupera Ogier si impazzo No, ma dov'è recuperare La Juve e Stabia, no Attenta, no Pallaccio di Vezzoni Prende il cartellino giallo Spende il suo cartellino giallo Per bloccare una Chiarissima occasione da gol Solo che non essendo Definita occasione proprio Nitida Perché comunque c'erano Ancora dei giocatori da superare Beh no, grazie, grazie Spero che vince il Foggio Per te Juve è merda C'è Tiam Oh mio Dio Il portiere Si vuole mettere lì Vuole tentare il tutto per tutto Tutto per tutto Ti prego non fammi sto scherzo Madonna mia È l'ultimissima occasione Tenta il tiro Perino Prende È finita È finita È finita 2 a 1 È finita È finita È finito tutto E a sto punto I playoff Cosa sono A sto punto I playoff Sono Nostri Devono essere Nostri I playoff Sta perdendo pure il crotone Siamo decimi Noi siamo decimi Noi attualmente Siamo decimi Se noi siamo attualmente Playoff Cioè se finisse Ora Dovremmo affrontare La casertana In casa loro Cioè se fosse finita adesso Il crotone ha perso Il Foggio ha vinto 2 a 1 Incredibile E mo Benevento Non tanto a Vellino Ma Benevento Se la può Giocare Perché sono 6 punti Soltanto Da fare in tipo 6 partite Sono 6 punti Sono 6 punti Non è proprio Difficile Comunque Monopoly Tourist 0 a 0 Stanno E' proprio Che il Monopoly Rischi Di fare il gol Mentre Monterosi Tuscia Crotone Comunque Stanno in tipo Si darà Juve e Sabbia Stanno in tipo Si darà Juve e Sabbia Diam E' andata A fare un culo Invece Il Crotone Non sembra Riuscire A recuperare Oh Noi sono andate Ma grazie Oh Che bello Stanno sotto la sud Sotto la sud Mamma mia E' bello Mamma mia Cioè Stiamo Ritornando Minchia Avevamo fatto Un inizio buono Poi stiamo facendo Una roba Spettacolare E' proprio Un top E' proprio Juve e Sabbia Non perdeva Da quattro partite Juve e Sabbia Non perdeva Da quattro partite Sei un grande Grazie Il mio compleanno E' il 4 Maggio Non so Se ci saranno partite Perché è un sabato Mi sono iscritto Ora Sei un grande Ma grazie Mi sono domandato Com'è si lavora Dai buonanotte Buonanotte Andate a lavorare Io andrò a dormire Cioè non adesso Però andrò Futuro A dormire Signori Vi auguro Buonanotte Perché La partita è finita Non c'ho nient'altro Da fare Buonanotte A tutti E ricordatevi Campanellina Tutta Tutti gli altri Social Buonanotte Buonanotte